Ciao, sono Patrizia, Fatto74. Nel mio canale puoi imparare a disegnare e colorare i figurini di moda a mano libera. A cosa ti serve? Ti serve perché quando poi vai a lavorare sul computer che ho sulla tavoletta grafica, sapere come sono i volumi, come sono i chiariscuri, averli compresi quando li hai fatti a mano libera, ti dà la possibilità di rifarli anche in digitale e ottenere dei disegni digitali molto più belli e molto più realistici. Quindi iscritti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità, pubblico tutte le settimane video nuovi, tutorial sia per figurini di presentazione che sono più lavorati e tutorial per disegni veloci per capire la posa. Bene, oggi questo video tratta questo figurino di Armani Privé ed è fatto con le matite colorate o pastelli. Bene, passiamo il video. Un grande saluto da Patrizia, patto74. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.